Per questo esercizio è ancora un elastico tra la lanca e la bassa spalla. La mano, ora rimanere con il gomito fresso da 90 gradi, fermo in questa rotazione. Da qui, eseguite dei passi laterali, in modo tale da sentire la trazione dell'elastico all'interno, mentre voi vincete la sua forza spingendo verso l'esterno. Nell'esercizio eseramente, poi pertanto dovrete tenere la posizione per il tempo indicato, dopodiché ritornate in posizione di partenza e rilassate. Grazie.